Nuova segnaletica per i parcheggi pubblici a Borgo Valsugana. I cartelli sono comparsi da diverse settimane nei quattro punti cardinali in entrata del paese di Borgo. Con quale scopo? Quello di segnalare la presenza sul territorio comunale di oltre 300 posti autopubblici presenti in dieci aree di parcheggio sparse su tutto il territorio comunale non solo nel centro storico. Anche presso il centro sportivo comunale, in via Giammaolle, così come in viale Città di Prato, in via Bagni e presso l'area Lenzi. Un progetto di revisione e implementazione della segnaletica e nel contempo un tentativo per ridurre la presenza di automobili nel centro storico dove spesso circolano mezzi alla ricerca di parcheggi creando ingorghi ed inquinamento.